Parliamo di parlare? O meglio, parliamo di suoni bloccati, consonanti inceppate, vocali introvabili, pensieri spezzati. Di cosa stiamo parlando? Della balbuzie. E il motivo per cui ne parliamo è che non se ne parla abbastanza. La balbuzie non è semplicemente una disfunzione del parlare, ma un ostacolo a vivere pienamente. Ogni volta che un suono si inceppa, chi lo sperimenta perde un pezzo di se stesso. Una parola alla volta. Se un tuo amico o familiare soffre di balbuzie, parlane tu con lui o lei per primo. Superare la balbuzia è possibile, ma il passo fondamentale è quello di parlarne.